Benvenuti a tutti in questa nuova puntata qui su MagMotori and Game. Ho un ospite qui con me per l'intro perché dove siamo oggi? All'Happy Valley di Pinerella di Cervia. Sì esatto perché oggi siamo ospiti speciali della Ferrari Driver Academy. Esattamente un invito che non è per tutti in mezzo ai Ferrari Club di Cento, Forlin Popoli, Zola Predosa. Ci sono ospiti come Massimo Rivola, i piloti della Academy a parte Antonio Fuoco, Mauro Picella e che più ne ha più ne metta. Lui è il mio compagno di gara di questo evento, cerchiamo di fare meglio. Un altro nostro compagno sta correndo e un altro l'abbiamo disperso. Diciamo che in questo momento c'è la Super Pool in corso e poi una gara di due ore, due ore che poi vedrete tramite gli onboard. Detto questo, saluti a tutti. Se vi piacerà questo video mi date un like e un bel iscriviti sul mio canale YouTube, MagMotorNGame. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Adesso andiamo a vedere come è finito. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E come si direte in questo caso...